Il Suolo della Terra Però un momento, nemmeno io vi ho invitato su questo pianeta, quindi per favore lasciamo stare. Com'è che dite voi? Facciamo buon viso a cattivo gioco? Ecco, benvenuti. Magari non ve ne siete accorti, ma io vivo con voi, nelle vostre case. Sì, certo, non avete dei fiori, piante ornamentali, un orto, un giardino, dei vasi? Ecco, io sono sempre lì. Mi trovate dappertutto intorno a voi, anzi, ecco, a dire la verità, mi trovate sotto di voi. Perché voi mi avete messo sotto alle vostre case, al vostro asfalto, al vostro cemento. Come vi sentireste ad avere del cemento che vi copre i pori della pelle e non fa passare l'acqua e neanche l'aria? Io invece voglio respirare all'aria aperta, come ho fatto sempre. Avete presente quella cosa, quella distesa in mezzo ai campi, alle valli, alle colline, ma anche nei giardini, nei parchi pubblici, nei vostri campi coltivati, negli orti, dove ci sono piante, fiori, alberi? Lì ci sono io. E siccome io ho anche certe proprietà, tutte le mie amiche piante mi vogliono e non mi mollano, mi si avvinghiano con le radici, sapete come sono certe piante, e tutte a dire, stai con me, ti prego, dai, tu che sei così fertile, dai! E io allora, effettivamente, sono in grado di... ecco, avete capito, no? Che volete farci? Io faccio crescere e sbocciare tutto. Diciamo che senza di me gli esseri umani non potrebbero esistere. Parlo di voi. Voi, sì. Voi, che da troppo tempo mi trattate come fango, spazzatura, rifiuti. Sporco. Non riuscite a capire che io sono soltanto il primo strato, una sottilissima pelle di questo pianeta. E che io, in realtà, sono vivo. E certo, perché in casa mia io accolgo, ospito, milioni, miliardi di microorganismi, di ogni forma, dimensione, colore, e loro, loro, sono quelli che fanno crescere il vostro cibo. Aha! Ma, ecco, ultimamente... Io non mi sento bene. Se devo essere proprio sincero con voi, mi sento a pezzi. Sono sfinito. Anche un pochino avvelenato. Malato. Per causa vostra! Voi mi avete ridotto a meno della metà di quello che ero solo cento anni fa. Mi state ascoltando? Io sto diventando polvere. Polvere! Ecco, se capite questo, forse riuscirete a capire anche che dovete trattarmi con maggiore rispetto. Credo che abbiate sempre intenzione di mangiare, giusto? Ah! Perciò dovreste trattare con rispetto tutta la mia famiglia. Anche mia madre Terra e mio padre Mare. Io sono giovane, ho solo poche decine di migliaia di anni, ma loro, loro sono qui da molto prima di voi. E noi non abbiamo bisogno di voi, ma voi. Voi sì. Ciao uomini. Buona fortuna. Grazie. Grazie.